Ecco un'invenzione fatta in casa, lama da neve montata su Gianni Ferrari, l'operatore in questo caso è Silvano, arriva perfettamente al terreno, lo scarico della lama è abbondante perché gli abbiamo dato un fattore di inclinazione abbastanza elevato, non si punta e spinge, naturalmente il Gianni Ferrari è un 4x4, bellissimo lavoro, perfetto, vedete riporta la neve, torna indietro, ora riprende a bassa dell'altezza desiderata con i suoi pistoni, direi operazione riuscita, saluta Silvano, grande Silvano, stasera sei su Youtube, rivediamolo ancora in azione, e eccolo Ecco che vi faccio un video da sopra, allo spalaneve, vedete che il funzionamento è perfetto si può anche aumentare la velocità in questo caso per il piazzale va benissimo lo scarico è abbondante della pala quindi abbiamo capito che l'inclinazione è andata giusta e si accumula volendo si può pennellare al contrario per la cresta